Ciao e benvenuti a Pillole di Design. Quella che vedete è la lampada Mayday di Konstantin Gercic. Mayday è il segnale di emergenza per chi si trova in difficoltà e il designer tedesco incarna questo messaggio in una lampada progettata per la Floss. La sua Mayday è concepita come una lampada multifunzione, infatti non può essere categorizzata, cioè non è una lampada da tavolo, non è una lampada da parete, non è una lampada da sospensione, perché in realtà Mayday è tutte queste categorie. E basta, alla prossima, ciao!